Ciao, sono Edoardo della gelateria Dolce Amaro. Io sono Camilla, vi aspettiamo alla Toscana in Bocca, vi delizieremo con un sacco di gelato, veramente tanti gusti e un gusto in particolar modo studiato appositamente per voi. Vi dico solo che tra gli ingredienti c'è il riso e c'è il fumo, è affumicato. Cosa dire, portiamo anche il gelato senza zucchero e senza latte per gli tolleranti e per chi ha problemi di diabete. Dovete solo venire ad assaggiare, grazie. Vi aspettiamo.